Ma buongiorno, bene ritrovati dal vostro CiccioChemano89, siamo tornati a un nuovo video di Clash Royale Subito un bel pollicino in su, ma prima oggi vi voglio dire una cosa, ma sapete che cos'è Level Up? È un energy drink che vi aiuta a concentrarvi, con il codice coupon CiccioChemano89 otterrete il 15% di sconto Questo è un barattolo di Level Up, che è il mio gusto preferito, quello senza caffeina Va messo 8 grammi in mezzo litro di acqua, va shakerato, perché io non l'ho shakerato, l'ho aspettato voi E lo andate a degustare A me questo mi piace un botto, sa di limone, è un pochino aspro e mi piace molto assai Quindi mi raccomando, quindi c'è sia quello con la caffeina dai 16 anni in su se non erro E quello senza caffeina lo potete bere quanto vi pare, come vi pare, perché non c'ha caffeina e non ci stanno problemi Quindi ce ne andiamo direttamente su Clash Royale, il link lo trovate in descrizione di Level Up Codice, credo, CiccioChemano89, per il codice sconto da 15% Allora è uscita la nuova season Sapete che io sono stato in Francia, quindi non ci sono stato dietro a Clash Royale Però insieme a voi, ah vedete vi devo anche comprare il season pass Cioè devo fare un sacco di cosine Però prima di comprare il season pass Si va a inserire il mio codice creatore Che è CiccioGamer89 Mi raccomando, non vi dimenticate Secondo me il pass royale per un giocatore di Clash Royale Cioè va preso Cioè se ci state un po' dietro Secondo me va preso Punto e basta, non è che c'è tanto da parlare Ci aiuta tantissimo, lo sapete Tratto io sento l'audio leggermente basso Non il microfono L'audio di Clash Royale Non vorrei che un pochino l'ho abbassato per qualche altra cosa Quindi regà lo alzo un pochettino Speriamo, perché voglio che comunque si senta un po' il gioco C'ho questa, guardate Voglio metterlo Vediamo, vediamo Che deck c'ho? Vabbè questo ci può stare Mi dite perché c'è stato il bisogno di cambiare questa carta? Ci sta, per carità Non è brutta Ma non ho capito questo rework Così Un po' particolare Non lo so Voglio andare a vedere i miei amici A che livello stanno 6.800 6.800 6.100 Allora in realtà Vabbè ma mi sa che Di Riccardo ha cazzeggiato parecchio C'ho sto presentimento Che ha cazzeggiato parecchio Oddio ma sa che secondo me è pure un po' troppo alto così eh Ok, stiamo contro un italiano È da un po' che non gioco e sono molto contento di giocare Parecchio No, mi è scliccato Mannaggia di quella Certo quando uno fa schifo Non è che gli puoi di niente Fai schifo Ma mannaggia Vedi che il codicilatore l'ho messo qua eh Bello piccolino Muschettlere Se riesco a grabbarlo No, non ci sono riuscito Però Può succedere qualcosa di carino Vediamo eh Vediamo Forse lui Ha chiesto un po' troppo A San Gennaro Sono abbastanza convinto Lui ha sprecato tantissime l'isir Ho la possibilità di fargli male al tizio C'è il 2.6 Ma non mi sembra che lo stia giocando in una maniera Incredibile Fatevelo dire Devo girare per forza la tronco Non è che posso fare altro Guardate Devo fare per forza così Per forza Per forza così Perché così è limite O gli evitiamo il domatore O se mi ritira il domatore Cerchiamo di fargli male Ci può stare Dovrei avere coraggio No, devo per forza fulminare Non è che c'è altro che io posso fare Pescatore qui sarebbe ottimo Però mi faccio io fare i miei Perché comunque i danni glieli faccio Allora se io faccio così No però Ma scusatemi Ma io non Ah bene Dai sapete che c'è Ho problemi a Inghaggiare A fare le cose fatte bene Ultimamente non me lo aggrappa Io non so se è cambiato qualcosa Ma magari sbaglio io Per forza Sto sbagliando io un qualcosa Per forza Sto sbagliando io un qualcosa Per forza Non esiste Non esiste proprio Mi sto Questo secondo me ci può stare Secondo me ci può stare Questo Lei non l'ho mai Utilizzata Lo lancio dietro Che secondo me Un po' di valore ci sta Facciamo così Facciamo così Perché lui non se lo aspettava Vado a fare così Ok Diciamo che lui comunque è a portata Di massacro Eh Lui è a portata di massacro Diciamo così Ok Ce la dovrei aver fatta Se non erro Però Lo spot Però lo spot Del pescatore O lo devo mettere Mi sa che non troppo lì Ma lo va messo più davanti Mi date un consiglio Per forza In chat Qui sotto Per forza Mi fate una cortesia Mi scrivete Che cosa Minchia Sto sbagliando O hanno fatto un aggiornamento E non lo so Perché Non riesco Vi giuro regà Non riesco È particolare Ah Andata cosa Proviamo un po' più avanti No regà Non va Eh regà Ma non Non va No Sto sbagliando io qualcosa Dai su È palese Non è che ci vuole È palese Che io stia sbagliando qualcosa Troppo Troppo palese Troppo Purtroppo Non ho niente Facciamo così Va Questa è stata una roba eccezionale Purtroppo Quello mi va a colpire Qualsiasi cosa Ok Quindi il pescatore Devo fare molta attenzione Devo fare tanto 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 Attenzione Regà Eh Ma io non c'ho niente Zio Non dovrei riuscire Purtroppo Avrò dei problemi Incredibili Perché lei mi serve Sugli scheletrini Quindi devo girare bene Un attimo il deck Che non è Posizionato In maniera Apocalittica Lei C'ha Lui C'ha Lei Che lei Però Se io me la gioco Un attimo bene Riesco a fare Bella roba Vedi Secondo me Quello che è successo Ci piace Facciamo così Vediamo Un bel Supportone Ci può stare In realtà Esatto Perché Crederci O non crederci È stato un predict Molto buono Tra l'altro Molto buono Perché lui Poteva solamente Giocarmi gli scheletrini Il domotore Io ho problemi Porcaccio Di quello Perché io mi ricordo Quello spot giusto Era qua davanti E magari mi sto sbagliando Magari mi sto sbagliando Ma che vi devo dire Boh Quello ci sta Perché lo grab E me lo porto via La queen Potrebbe essere Un problema A breve Perché io farei così Allora Io farei così Farei così Ok No no Ma per il momento Va bene Per il momento Va bene Non vi preoccupate Non vi preoccupate Di queste Tematiche Un po' Andiamo così Andiamo così Facciamo così Però mi sa che lui Mi ha fatto la torre Sto stronzone Ci avrà un Qualcosa No mi sa che non me l'ha fatta No non me l'ha fatta Non me l'ha fatta Sta ciclando qualcosa Ma non me l'ha fatta Oh ho problemi Con il domatore Uno va bene Sto trovando tutti i domatori E chi se ne frega Anche è vero Che se anche lui Con la terremoto Mi avesse Buttato giù la torre Vi posso garantire Che avrebbe avuto Dei problemi giganti Perché Era andato sotto Tantissimo Di elisir Veramente tanto 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 Tantissimo Eh Ok Dovrei riuscire A difendere Bene Non ho niente Praticamente Non ho praticamente Niente Quella regà Io la subisco Troppo Non me ne frega Non Posso dire Che Un po' Di culo Un po' Di fortuna Oh mi raccomando Codice creatore Ciccio game 89 Su clash royale Regà Cioè come Cioè Secondo me è palese Che vada Ha utilizzato Il codice Creatore di ciccio game 89 Ho dei problemi giganti Per forza Regà Merda Ragazzi Che c'hai La ghiaccia Che c'hai Io ti devo per forza Attaccare così Eh Regà Purtroppo Questo Mi è Abbastanza Counter Dico la verità Questo Purtroppo Mi è abbastanza Counter Questa è brutta Storia Brutta Brutta Bruttissima Non credo Di Di farcela Purtroppo Purtroppo Non credo Di farcela Come faccio Ma non ho niente Ragazzi Eh Mi posso inventare Quello che volete Regà E lui è anche Bravino Tra l'altro Che faccio Perché lui C'ha un mongolfiera C'ha un sacco Di roba Eh Per l'appunto Non c'ho niente Regà Perché lui Non mi ritira Di nuovo Gli sgherri Eh Io sto a posto È proprio Un bel counterone Questo Non mi ritira Ah no Neanche Minchia Pure Se mi tira Gli sgherri Regà Sono esploso Se mi tira Gli sgherri Sono esploso Eh Bravo G Ma che fai Non Che poi Guardate Sì Lui dice Gioca bene Ma in realtà Sta giocando Malissimo Regà In realtà Sta giocando Malissimo Questo ragazzo Ma veramente Male 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 Perché lui Sta buttando Roba a caso Che peccato Io qua La torre La lascere No 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 Ma che Scammata Che scammata Ragazzi Che scammata Ragazzi Che scammata Ragazzi Gigante Gigante C'ha le frecce Peccato Potevo sicuramente Giocarla meglio Però lui è veramente Troppo counter Veramente un peccato Allucinante Veramente un peccato La partita Non gliela do Assolutamente Potevo giocare meglio Sì Pensavo fosse un buon player Ma ho visto come stava giocando Lui aveva la risera E buttava Perché sapeva che io Non gli potevo fare Assolutamente niente Quindi Bah Un po' Un po' Ecco Un po' Proviamo Ad andare avanti Stiamo contro Faisal Grandissimo Faisal Un saluto Un'altra volta Un 2.6 Probabilmente Che potrebbe essere Un arco X No è 2.6 Dai Io ragazzi Lo spot Io me lo ricordo così Mo fate come vi pare Ah mo ha funzionato Va bene Adesso ha funzionato Per qualche oscuro motivo Prima no Va bene Io direi che questo qua davanti Ci sta Perché lui mi può attirare il cannone Dai ti prego Sì Ma tu sei troppo gentile Vai toglimi quelli E gli facciamo qualche danno Dai Non male Non male Poteva andare meglio Poteva andare peggio Però lui già ha ciclato Raga Lui già ha ciclato Quello è il problema Quindi il prossimo Domatore Io lo dovrei difendere Sicuramente così Ma lui è capace Che mi tira Qualcosa Che mi faccia malino Quindi In realtà Io questo Me ne devo andare qua Per forza Non ho nient'altro Raga Non ho nient'altro Mi va bene tutto Mi va bene tutto Mi va bene Mi va bene Mi va bene Mi va bene E io non ho niente Raga No Questo mi serve Questo facciamo così Ok Tutto Sommato Brutto 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 Non è Ve lo posso garantire Quello di là Ci può stare Allora A me tanto Mi serve Difendere Adore Tra l'altro Non avrei neanche Giocato bene Tra mille cose Io Ripeto Non so È cambiato qualcosa Non mi trovo più A A fare Determinate Giocate Dico la verità Secondo me Qui lui ha voluto Un po' Troppo Secondo me E io gli dovrei Lasciare Probabilmente La torre No Facciamo così Facciamo così Qui ho giocato bene Mo Dite quello che ve pare Qui ho di nuovo giocato da dio Fate quello che ve pare Posso fare sicuramente così E cerco di fargli fare un casino pazzesco a lui No Ok l'audio è bello forte Non so come si sentirà In video Ok Ok Comunque sto trovando Tanti 2.6 Tanti domatori Non sto riuscendo bene Veramente Ho dei problemi giganti Regà Oh Devo portarlo ancora più a sinistra Non ci sto riusci Ok 5.900 Facciamocene un'altra Mi raccomando Un bel pollicione in su Ricordatevelo eh Questo che ha Lugbait O un altro Domator Un altro Domator No non ha Domator Oh bro E ma caca del cazzo Mi sta a faccavi niente Eh E mo va bene tutto Fino a una certa Oh Eh purtroppo Non c'ho Mazza E' poi leggermente forte Quello Io ho capito che Che roba c'ha Questo Mamma mia Questo c'ha un deck Super veloce Ragazzi Un deck Super veloce C'ha Diciamo che la strega madre Mi potrebbe dare Una grande mano Veramente Grande 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 Se dovessi sbagliare A fare quello che dico io Eh lo sapete che Non ce l'ho fatta A fare quello che volevo Purtroppo Purtroppo no Peccato perché L'abilità Se l'avessi lanciata Un secondo prima Era fotonica Fotonica Però non ho il deck Girato bene Questo è un dato di fatto È un dato di fatto Che io non abbia Il deck Girato bene Purtroppo Eh che sfigami Ma secondo me Hanno cambiato Un po' Il pescatore C'ho questa sensazione Non glielo posso Lasciare Questo Ragazzi Bene 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 Lui è stato Molto gentile Lui è stato Molto gentile Il miner Merda Eh qui è stato Bravo Che qui è stato Bravo Non ne posso Di niente Perché lui C'ha Allora Che cos'era Quel tronco Chi lo sa Non lo so Ok Non è disdicevole Assolutamente Per forza Regà Non si può avvicinare A me Cioè Deve tirarmi un rocket Se ce l'ho Non lo so Sto dicendo Deve fare qualcosa Di incredibile Lui Ok Tanto uno L'ho bloccato Lasciate Perde Va bene Così No Non deve Arrivarmi sotto Torre Non me ne frega Niente Non deve 4 e 30 Rocket Ci sta Che avevi come spell Che non me l'hai tirata Che cosa C'avevi come spell Brutto Briconcello Che non sei altro E che tu Qualcosa come spell Ce l'avevi Per forza Ah no Non c'è Pensa che deck C'ha va questo Pensa che deck C'ha va questo Pensa che roba Raga Fuori di testa Ah pensa C'ho pure Sta robetta qua Poi ragazzi Vi ricordo che Dobbiamo portare Su Tutto quanto Il deck A livello Anzi Da quello che so Sta pure uscendo Il livello 15 Se non erro Se non erro Che ci sta Oh questa è carina Io andrei a aprire Sì Ok Voglia Ma Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Quindi abbiamo fatto Abbiamo fatto Signori che vi devo dire Io vi voglio bene Grazie mille per aver Visualizzato Questo video Spero di avervi Intrattenuto Vi ricordo Codice Coupon Cicciochiamaro89 Su level up Link in descrizione Se mi volete supportare Tipo amazon Che mi fa tanto piacere Codice Cicciochiamaro89 Su clash royale Oh Buona giornata Statemi bene Spero che l'audio Andava bene E Arrivederci Ciao